Non c'è cammino verticale Non c'è cammino verticale Un percorso evolutivo di 32 stazioni che idealmente conduce dalla passione dell'amore alla coscienza dell'amore Gli artari sono costruiti con i legni delle barche dei pescatori siciliani e sono dipinte due icone Una è la pala di Fico d'India Coriforme con i tre frutti fiammanti che evoca il sacro cuore e quello rappresenta la passione dell'amore L'altra icona è dipinta un'isola sentimentale, un'isola vulcanica che è un archetipo dell'anima e sul quale esprende una luna di cuore che emana lo spirito della chiarezza e quella rappresenta la coscienza dell'amore Questo è un luogo che rappresenta la fatica dell'ascesi per qualsiasi tipo di cammino interiore che si percorre Con ovla, su un'antara Con ovla, ovla, con astiavi me llama, all'alabili me llama, all'amore altoio con ovla, su un'antara alla prossima scala